Apriamo questa prima edizione con le parole che il Cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha rivolto parlando di Europa da ricostruire dopo l'epidemia da coronavirus. Servono uomini e donne che abbiano fame di giustizia, non esperti di politica, detto il Cardinale, e soprattutto che si mettano a disposizione della comunità e il servizio. Per superare la crisi legata alla pandemia non servono tecnici ed esperti, ma persone che hanno fame e sete di giustizia e vogliono operare per il bene di tutti. È il requisito essenziale per chi vuole fare politica. Abbiamo davanti un rischio epocale, o ricostruiamo il mondo con questa fame di giustizia, oppure assisteremo al declino della nostra civiltà come spettatori irrilevanti. Sono le parole del presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinale Gualtiero Bassetti, che cita il patrono d'Europa, San Benedetto. Pace, unità e cristianesimo sono le basi della nostra civiltà. Di fronte al rischio di una crisi epocale dobbiamo comportarci come San Benedetto, pregare e lavorare per la rinascita del nostro paese, del nostro continente, della nostra civiltà aggiunto. La fitta rete di monasteri benedettini, che si sviluppa in tutto il continente europeo nel primo millennio, costituisce ancora oggi le fondamenta spirituali e culturali dell'Europa, di un'Europa che se vuole sopravvivere, deve continuare a pregare e lavorare. C'è un'Europa che contempla la parola di Dio e si prende cura di tutti gli esseri umani, a partire dai più deboli, che testimonia l'amore di Cristo e al tempo stesso si fa costruttrice del mondo con le opere dell'ingegno, dice Bassetti. Abbiamo come cristiani molto da annunciare e da fare per il nostro tempo, conclude. Dobbiamo annunciare la verità sull'uomo, come amava dire Giovanni Paolo II, e dobbiamo impegnarci per l'unità della famiglia umana e della chiesa. Abbiamo bisogno soprattutto di uomini e di donne che si fanno ambasciatori di Cristo, uomini e donne che come le sentinelle per la casa di Israele rispondono a una missione divina, esprimono compassione e generosità la loro vocazione e si mettono a disposizione della comunità. Bisogna avere più coraggio di rimboccarsi le maniche e mettersi a servizio, a disposizione della comunità.